Buongiorno, ben ritrovati, oggi è martedì 1 agosto, primo giorno del mese di agosto, appunto iniziamo insieme come tutte le mattine la rassegna stampa, occhio ai giornali, l'appuntamento, il primo appuntamento del giorno con l'informazione e con la carta stampata, in questo caso Corriere e il resto del Carlino sono già pronti, ma procediamo come di consueto con ordine, guardiamo l'almanaco del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi appunto martedì 1 agosto, Sant'Alfonso Maria degli Guori, Vescovo, il sole è sorto alle 5.56 e tramonterà alle 20.32, le previsioni del tempo, vediamo, sono giornate, questo è stato detto e straridetto di sole pieno, caldo e afa, vedete oggi il cielo è questo, sereno e poco nuvoloso, nessuna precipitazione, le temperature in lieve aumento e i venti in regime di berezza, mare calmo o poco mosso nel primo pomeriggio, domani stessa cosa, sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme sui rilievi e nessuna precipitazione, le temperature sempre in leggero aumento, temperature che dopo vi faremo vedere, insomma sono decisamente impegnative, venti a regime di berezza e mare quasi calmo, poco mosso, stessa cosa per giovedì, va bene, abbiamo davanti una settimana con questo tenore, nessuna precipitazione, sereno o poco nuvoloso, ecco anche qui le tendenze per i giorni restanti della settimana sono tempo stabile, soleggiato, quindi insomma le temperature, guardate, sono quasi tutte, ve le faccio vedere su tutta la regione, nelle punte massime, quindi per viste per le ore 14, tutte al di sopra dei 30 gradi, soltanto Monte Prata è intorno ai 20, però vedete Ascoli Piceno 38, 36 Fabriano, 29 Senigallia e anche Pesaro sui 30 e devo dire che domani, mercoledì, se non va peggio, insomma, perché vedete arriviamo anche a punte di 40 gradi, Ascoli Piceno, Fabriano e anche Urbino sopra i 35 gradi, insomma, sono temperature, direi, importanti, quindi attenzione soprattutto agli anziani, le persone più fragili, più deboli, in casa, nelle ore più calde e muoversi per assoluta necessità e soprattutto idratarsi e come diciamo sempre anche non aprite agli sconosciuti, vista la cronaca anche recente. Allora, apriamo i giornali, iniziamo a sfogliarli, iniziamo dal resto del Carlino, partiamo con la pagina di apertura dell'inserto locale, in fotonotizia i mostri del fiume Foglia, eccoli qua, pesce gatto americano, il nuovo padrone del fiume, un predatore terribile, di grandi dimensioni, che ha colonizzato la parte terminale del fiume, vedete qui, insomma, la pesca di questi esemplari di grossissima taglia, poi c'è la guerra al rumore, in Baia Flaminia parlano i gestori dei locali, siamo in regola sui degibel, residenti venite a controllare, e poi di spalla la politica, Ricci spunta il documento del pasticcio dell'AMAT, e poi in basso una di cronaca, voleva i micini a tutti i costi, li prende e viene denunciata. Andiamo nelle pagine di Fano, del resto del Carlino, dove si parla dell'inaugurazione, questa è una notizia comune a tutti e due i quotidiani, la presentazione dei due reparti, pneumologia e blocco operatorio, e presentati anche i due direttori, i due primari di pneumologia, Candoli e Scarcelli, i due reparti erano già operativi da tempo, però non erano stati presentati alla comunità, e quindi eccoli qui, Maria Capalbo, esponenti politici, il vice sindaco Marchegiani, Renato Claudio Minardi e Fondazione Carifano, che sono quelli che hanno in soldoni cacciato fuori soldi, come si dice, infatti la regione ha investito 5 milioni e 400 mila euro, personale e tecnologie, sono due dipartimenti di punta, su 1.400 e 760 metri quadrati di superficie, quindi insomma un importante asset per il nostro ospedale, l'ospedale di Fano, ma si parla anche di eventi nelle pagine del resto del Carlino di Fano, uno in particolare che parla di donazione e volontariato, stiamo parlando di Fano e della sua coloratissima, coloratissima, coloriamo la vita appunto, festa nella Zengarini, come avviene ormai da diverso tempo, questa volta hanno voluto fare una versione by night, con colori fluorescenti, per accentuare ancora di più la festa, l'associazione ha i risvegli, l'associazione ha sollecitato i donatori dormienti a tornare in attività, sì perché c'è un po' di carenza di donazioni in tutte le marche e anche in virtù del periodo estivo dove i donatori calano un po' nella loro frequentazione, però sono stati spronati a dovere. e poi di spalla vediamo un altro colpaccio per il paese dei Balocchi e Michele Brocchini perché arriva Curcio, il cittadino, sarà nominato cittadino onorario, il capo dipartimento della protezione civile appunto al paese dei Balocchi. Ancora nelle pagine del resto del Carlino, però andiamo all'interno, vediamo nella Val Cesano, si parla appunto di politica, i 5 Stelle contro lo staff nominato da Guzzi di recente, Melfi, Sonia Melfi dei 5 Stelle, lo attacca, dice il Presidente del Consiglio non serve e per l'assistenza te faccia un bando. Quindi due nomine recenti, sono sotto la lente di ingrandimento dei 5 Stelle e poi a Fano, segnalato anche l'autorità giziare, un bagnino di Gimare, l'accusa è di aver invaso 600 metri quadri abusivamente, sposta gli ombrelloni e viene sanzionato. Il mare però erode anche la spiaggia. Da Mondolfo, Valle del Cesano e del Metauro diventano sempre più digitali, sono arrivati i finanziamenti del bando regionale, vedete qui i due, insomma, i rappresentanti dei comuni interessati a questo importante finanziamento per la digitalizzazione e quindi naturalmente anche per l'efficienza dei servizi comunali. Le pagine di Urbino e del resto di Carlino in prima pagina puntano sulla politica, la minoranza in consiglio è sempre più divisa, metà opposizione non si presenta alle sedute, vedete qui una seduta del consiglio appunto di Urbino. E poi dalla pagina appunto in primo piano, pesano in primo piano, come vi dicevo anche in testa di pagina, la guerra dei decibel, i decibel li rispettiamo, parlano i titolari degli esercizi commerciali di Baia Flaminia, in particolare il titolare di Baia del Sol che lancia un appello ai residenti e dice venite in console con me quando faccio appunto musica e vedete se i decibel sono quelli giusti oppure no, le ragioni naturalmente degli operatori, la Baia dicono è migliorata, diamo lavoro a circa 150 persone, abbiamo una levetta che limita i decibel secondo la normativa. Apriamo l'altro quotidiano, il Corriere Adriatico, sempre nell'inserto pesarese che sceglie un'apertura con la fotonotizia diversa, come vi dicevo appunto il Santa Croce ed eccolo qui il taglio del nastro, spesi 5 milioni ma naturalmente in attesa di muraglia, blocco operatorio e polo endoscopico. E poi emergenza per il caldo, 40 soccorsi al giorno, ve lo dicevamo appunto prima, anziano che sono naturalmente i bersagli più fragili a rischio, picco atteso per giovedì, allarme mercatale, l'invaso vuoto per metà. Stiamo parlando dell'emergenza idrica, affano appunto, la pagina parla di questo taglio del nastro, due strutture costate oltre 5 milioni, vedete appunto qui immagini che ritraggono il momento di ieri pomeriggio alle 4 e mezza. La direttrice di Marche Nord, Maria Capalbo, ha presentato anche i nuovi primari dei due presidi, Candoli, Pneumologia e Scarcelli, Gastroenterologia e poi presentata anche una delle feste più amate e più belle della provincia, a Ripalta, dove si respira un'aria di altri tempi nell'aria dell'antistante appunto la chiesa, sapore d'altri tempi per una festa azzeccata nei suoi tempi, nei suoi modi, da giovedì a domenica, gastronomia, musica, arte per rilanciare questo borgo. Questo borgo che è veramente è un fazzoletto, è piccolissimo, Ripalta, ma è un piccolo scrigno, andatelo a vedere, perché merita. Ancora nella pagina di Fano aumenta il degrado urbano lancia questo allarme in consiglio segnalati anche in curia nel campo d'aviazione, come vi abbiamo mostrato ampiamente nei nostri servizi tante volte, e il disagio di Metaurilia e quindi insomma questo è a pagina 3 del Corriere Adriatico. Poi andiamo per quello che riguarda sempre Fano, paese dei Balocchi, ora c'è il cittadino onorario, è Curcio, il capo della protezione civile nazionale, sarà appunto a Fano il 17 di agosto e qui vedete un attimo di tutto quello che avviene al paese dei Balocchi. A fa record, a fa record e questo non è una novità, a fa record anziani a rischio, qui insomma tutta la cronistoria giorno per giorno di quello che avverrà e insomma a fa veramente da record si superano i 40 gradi e anche i soccorsi e il 118 viene allertato tantissime volte al giorno oltre 40 volte, miglia accessi in più negli ultimi due mesi, il picco è atteso per dopo domani, per giovedì, quindi attenzione alla giornata di giovedì. Nella Val Cesano si parla appunto della trasformazione digitale, vedete qui il giovanissimo sindaco di Mondolfo e Marotta, Nicola Barbieri con i colleghi abbiamo svolto un ottimo lavoro con grande collaborazione, questo è il suo commento e sicuramente l'Unione fa la forza, 13 enti dalle Valle del Cesano e del Metauro hanno avuto 250 mila euro per questo bando regionale per la digitalizzazione dei loro servizi. Nella pagina di apertura appunto si lanciava l'allarme anche idrico e vedete l'invaso di Mercatale per chi ha Sassu Corvaro per chi ogni tanto ci è passato e lo vedeva e questo è l'invaso, vedete il livello dell'acqua dove è arrivato appunto è scesa del 50% la capienza dell'invaso. Vuoto per metà all'arme mercatale si decide se togliere l'acqua al fiume o all'agricoltura. Queste sono decisioni che verranno prese fra pochi giorni insomma perché chiaramente l'emergenza è emergenza in quanto tale. A Urbino il boom della sagra delle pesche questo è un periodo in cui pullulano sagre feste momenti di aggregazione e insomma ce n'è per tutti i gusti dalle sagre della frutta a quelle festaiole i prodotti tipici e le pesche sono un elemento sicuramente distintivo del nostro territorio delle nostre coltivazioni il nuovo format parte col botto vice sindaco Magri nessuna polemica con la Proloco continuerà il suo lavoro e chissà perché quando si parla di cose riuscite il botto vabbè fanno tante cose fanno il botto va bene a Senigallia l'ultima pagina che vi propongo parla di cronaca ragazzini scherzano con l'acqua blitz di notte piazza saffi allagata mi hanno messo il sistema di irrigazione dei giardini i residenti hanno visto scappare alcuni minorenni che insomma nelle loro noiose serate o giornate ne se ne inventano una al giorno non è il primo ride però del genere gli agenti della polizia municipale vanno a caccia dei responsabili Senigallia che in questi giorni è invasa da personaggi in look anni 50 perché c'è il summer jambori bene questa era l'ultima notizia che io vi davo che vi leggevo che vi facevo vedere sui quotidiani grazie per essere stati compagnia naturalmente andate in edicola comprate i giornali e approfondite le notizie che noi vi facciamo vedere facciamo solo un escurso su un volo pindarico su quello che c'è in edicola bene grazie per essere stati in nostra compagnia vi ricordo che questa sera alle 20 e 30 c'è l'appuntamento con il nostro telegiornale occhio alla notizia grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi